Appena tirata la chiara dal frigorifero è già decongelata, si agita ma non forte, si capovolge per 10 volte. Fisiologica allo 0,9% si aspira 1,8. Grazie. Si aspira l'aria che si è creata, sempre 1,8. Si gira sempre per 10 volte. Si controlla la soluzione che sia leggermente naziginosa ma che non si vede macroscopicamente del materiale all'interno. Si etichetta mettendo la data della diluizione e l'ora. Dopodiché è pronta per essere somministrata. 0,3. E' pronta per essere somministrata. Si cambia l'ago e si somministrata. E' pronta per essere somministrata. E' pronta per essere somministrata.